molto importante, pranzo, ci sono circa 200 prenotazioni quindi anche quest'anno sarà una cosa molto impegnativa hanno un esame gratuito e anonimo al vostro cane, quindi direi cercate di approfittarle che potrebbe essere una buona occasione in bocca al lupo a tutti, ci vediamo più tardi Grazie 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 Sarà meglio fare No eh E' vero che c'è l'uso, è bello E' muscoloso, è corretto per il resto Tuttavia c'è già lì, ti lasseghi anche qui No ma hai il tuo gioco più Vadoo il testo Poi basta Scusate Scusate Vadoo il testo Scusate Scusate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti